Nel rispetto del messaggio celestiniano saranno riconciliazione e sobrietà i due concetti che caratterizzeranno la 719esima edizione della perdonanza, prevista dal 23 al 29 agosto prossimi. Il cartellone degli eventi, ancora in divenire ma per buona parte già definito, si muoverà lungo tre direttrici fondamentali, religione e spiritualità, cultura e spettacoli. Questi ultimi in particolare si svolgeranno in location individuate principalmente all'interno del centro storico cittadino. Tra queste è Piazza Duomo, Piazza Palazzo, Piazza Bariscianello e la scalinata di San Bernardino. Per preservare la sacralità del luogo non saranno invece previsti eventi, se non di natura strettamente religiosa, nella zona di Collemaggio e del Parco del Sole. Confermata l'accensione del tripode contenente il fuoco del Morrone come evento che darà il via alle celebrazioni, mentre le novità sostanziali dovrebbero invece investire il corteo storico, che sarà più rapido e strutturato secondo una più stringente ricostruzione storica. Cambierà anche il ruolo della Dama della Bolla, la quale avrà soltanto un ruolo di supporto, in quanto il documento sarà trasportato a quattro mani dall'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, e dal sindaco Massimo Cialente. Lo stesso primo cittadino aquilano ha auspicato entro breve tempo l'avvio dei lavori di ricostruzione sul complesso della Basilica di Collemaggio, annunciando poi la trasformazione del Comitato Perdonanza in un tavolo permanente, che si possa occupare per tutto l'arco dell'anno dell'organizzazione di un evento cardine nella storia passata, presente e futura, della città dell'Aquila, e che dovrà essere uno dei maggiori veicoli di promozione della candidatura del capoluogo d'Abruzzo a Città Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019. Confermato, infine, il nome dell'Alto Prelato che sarà incaricato di aprire la Porta Santa. Si tratta del Cardinale Domenico Calcagno, giavescovo della Diocesi di Savona.